il 25 marzo a pietroburgo accadde un avvenimento molto strano il barbiere ivam jakov levier abitante sulla prospettiva losnensky il suo cognome era andato perduto e nient'altro risulta dalla sua insegna dove era figurato un signore con una guancia insaponata e c'era scritta se cava anche sangue il barbiere ivam jakov levier dunque si svegliò abbastanza presto e sentì odore di panini caldi sollevatosi un poco sul letto vide che sua moglie una signora abbastanza rispettabile cui piaceva molto bere caffè sfornava dei panini appena cotti oggi prascovia osipovna io non prendo il caffè disse ivam jakov levier vorrei invece mangiare del pane caldo con la cipolla ossia ivam jakov levier avrebbe voluto l'uno e l'altro ma sapeva che era assolutamente impossibile esigere due cose alla volta perché prascovia osipovna non amava per nulla simili capricci che questo scemo mangi pure il pane per me è meglio pensò frasce la consorte così resterà una porzione in più di caffè e gettò un panino sul tavolo per decenza ivam jakov levier si mise il frac sopra la camicia e sedutosi a tavola prese del sale preparò due teste di cipolla impugnò il coltello e assunta un'espressione ispirata si accinse a tagliare il pane tagliato il pane a metà gettò un'occhiata nel mezzo e con suo stupore vide qualcosa che biancheggiava ivam jakov levier la sfrugacchiò cautamente con il coltello e la tastò con un dito solido disse frasce cosa può essere ficcò dentro le dita e tirò fuori un naso ivam jakov levier si sentì cascare le braccia cominciò a soffregarsi gli occhi e poi tastò di nuovo un naso proprio un naso e per giunta a quel che sembrava anche in un certo senso conosciuto lo spavento si dipinse sulla faccia di ivam jakov levier ma questo spavento era niente in confronto alla indignazione che si impadronì di sua moglie dov'è che hai tagliato questo naso specie di belva si mise a gridare con ira ma scalzone ubriacone andrò io stessa a denunciarti alla polizia specie di brigante già da tre persone l'avevano sentito dire che quando fai la barba maltratti a tal punto i nasi che non si capisce come ancora si reggano ma ivam jakov levier era più morto che vivo sarà accorto che quel naso d'altri non era che dell'assessore del collegio kovlev al quale faceva la barba ogni mercoledì ogni domenica fermati prescovia osipovna l'avvolgerò in un censo e lo metterò in un angolo ora stia là poi lo porterò via non voglio neanche sentirne parlare che io permetta a un naso mozzato di restare con me nella stanza biscotto rinsecchito non sa fare altro che passare il rasoio sulla cinghia e presto non sarà più nemmeno in grado di fare il suo dovere fannullone farabutto che io mi metta a rispondere alla polizia per te pasticcione travicello sciocco fuori di qui fuori portalo dove ti pare che non ne senta nemmeno l'odore ivam jakov levier stava lì come un morto pensava pensava e non sapeva cosa fare lo sai il diavolo come è successo disse infine grattandosi dietro l'orecchio se ieri sono tornato ubriaco o no non lo posso dire di certo ma da tutti i segni questo è un avvertimento inaudito perché il pane è una cosa cotta al forno mentre il naso non è affatto tale non ci capisco niente ivam jakov levier muto lì il pensiero che i poliziotti trovassero in casa sua il naso e lo accusassero lo fece piombare in un totale smarrimento già si immaginava il colletto rosso ricamato d'argento la spada e tremava in tutto il corpo finalmente tirò fuori gli abiti e gli stivali si mise addosso tutta quella robaccia e accompagnato dalle pesanti esortazioni di prascovia osipovna avvolse il naso in un censo e uscì in strada voleva ficcarlo in un posto qualsiasi dietro a un paracarro sotto un portone oppure perderlo accidentalmente e poi svoltare subito in un vicolo ma per disgrazia gli capitò di incontrare dei conoscenti che subito cominciarono con le domande dove vai? oppure a chi vai a far la barba così presto? cosicché Ivan Iacovlevie non riusciva mai a cogliere il momento propizio un'altra volta l'aveva già lasciato cadere quando una guardia ancora da lontano gliel'aveva indicato con l'alabarda esclamando raccatta! non vedi che hai lasciato cadere qualcosa? e Ivan Iacovlevie aveva dovuto raccogliere il naso e nasconderselo in tasca così sarà lasciato prendere dalla disperazione tanto più che la gente in strada aumentava di continuo via via che cominciavano ad aprirsi i negozi e le botteghe decise di andare al ponte Isakievski non sarebbe riuscito a scaraventarlo in qualche modo nella neva ma sono un po' in colpa perché sinora non ho detto nulla di Ivan Iacovlevie persona rispettabile sotto molti riguardi come ogni artigiano russo per bene Ivan Iacovlevie era un terribile ubriacone e sebbene ogni giorno radesse i menti altrui il suo era eternamente non raso il frac di Ivan Iacovlevie Ivan Iacovlevie non andava mai in giro con il sopravito era pezzato ossia era nero ma tutto pieno di macchie bruno giallastre e grigie il colletto era liso e al posto dei tre bottoni penzolavano solamente dei fili Ivan Iacovlevie era un grande sfrontato e quando l'assessore di collegio Kovalev gli diceva come al solito durante la rasatura a te Ivan Iacovlevie puzzano sempre le mani Ivan Iacovlevie rispondeva con la domanda e perché dovrebbero puzzare? non lo so amico so solo che puzzano diceva l'assessore di collegio e Ivan Iacovlevie sciutata a una presa di tabacco per ripicca lo insaponava sulle guance e sotto il naso e dietro le orecchie e sotto la barba insomma dovunque gli venisse voglia di farlo questo rispettabile cittadino si trovava dunque già sul ponte Iacovski innanzitutto si guardò in giro poi si chinò sul parapetto come se volesse guardare se per caso non si vedessero dei pesci sotto il ponte poi con cautela scagliò il censo contenente il naso allora provò di colpo una sensazione come se gli fossero state tolte dieci libre di dosso persino su guignò invece di andarsene a radere ai menti dei funzionari si diresse in un locale con l'insegna cibi e tè a chiedere un bicchiere di punch quando a un tratto notò all'estremità del ponte una guardia aiorale di nobile aspetto con larghi basettoni col tricorno e la spada si sentì venir meno mentre la guardia gli faceva accenno con il dito e diceva viene un po' qui mio caro poiché rispettava le forme Ivan Iacovlevie si tolse ancora da lontano il berretto e avvicinandosi rapidamente disse auguro buona salute alla signoria vostra no no amico bello niente signoria di un po' che cosa facevi là sul ponte? per dio signore andavo a far la barba e guardavo soltanto come scorreva il piume storie, storie con questo non te la caverai fai il piacere di rispondere io sono pronto a far la barba a vostra signoria due volte alla settimana o anche tre senza nessuna obiezione rispose Ivan Iacovlevie no amico queste sono sciocchezze già tre barbieri mi fanno la barba e lo considerano pure un grande onore su fammi un po' il piacere di raccontare che cosa facevi là Ivan Iacovlevie ma qui il racconto si perde avvolto come una nebbia e di quanto sia successo in seguito non si sa assolutamente nulla l'assessore di collegio Kovalev si svegliò abbastanza presto e con le labbra fece brrr cose che faceva sempre quando si destava sebbene nemmeno lui sapesse spiegare perché Kovalev si stirò ordinò di dargli un piccolo specchio che stava sul tavolo voleva guardare un foruncoletto che la sera prima gli era spuntato sul naso ma con suo sommo stupore vide che al posto del naso aveva uno spazio perfettamente liscio spaventatosi Kovalev ordinò di portargli dell'acqua e si fregò gli occhi con l'asciugamano proprio così niente naso cominciò a tastare con la mano per vedere se non stesse ancora dormendo no a quanto pareva non dormiva l'assessore di collegio Kovalev saltò giù dal letto si diede uno scrollone niente naso ordinò subito di portargli i vestiti e volò direttamente dal capo della polizia ma nel frattempo è indispensabile dire qualcosa di Kovalev affinché il lettore possa vedere che tipo era quest'assessore di collegio gli assessori di collegio che ricevono questo titolo grazie ad attestati di studio non si possono assolutamente paragonare a quegli assessori di collegio che un tempo provenivano dal Caucaso sono due generi completamente diversi gli assessori di collegio che hanno studiato ma la Russia è una terra così curiosa che se parli di un certo assessore di collegio tutti gli assessori di collegio da Riga alla Kamiatka immancabilmente pensano che si parli di loro e lo stesso vale per tutti i titoli e i gradi Kovalev era un assessore di collegio del Caucaso soltanto da due anni aveva questo titolo e perciò non se lo dimenticava mai e per darsi più nobiltà e più peso non si definiva mai assessore di collegio bensì sempre maggiore enti, colombella diceva solitamente incontrando per strada una donnetta che vendeva sparati per camice vieni a casa mia il mio appartamento è sulla Sadovaia domanda soltanto abita qui il maggiore Kovalev e chiunque te lo saprà indicare se poi ne incontrava una graziosa oltre a questo le dava un ordine segreto aggiungendo devi chiedere a Nemuccia dell'appartamento del maggiore Kovalev quindi anche noi d'ora in avanti chiameremo maggiore quest'assessore di collegio il maggiore Kovalev aveva l'abitudine di andare ogni giorno a passeggio sulla prospettiva Nevsky il colletto della sua camicia era sempre straordinariamente pulito e inamidato i suoi basettoni erano di quel tipo che ancora oggi si può vedere fra gli aggrimensori provinciali e distrettuali gli architetti e i medici di reggimento nonché fra coloro che svolgono varie mansioni di polizia e in genere fra tutti quegli uomini che hanno le guance piene e rubizze e giocano molto bene a Boston sono basettoni che attraversano una buona metà della guance e arrivano fin sotto il naso il maggiore Kovalev portava una quantità di ciondoli di corniola sia come stemmi sia con parole incise come mercoledì, giovedì, lunedì e così via egli era venuto a Pietroburgo con uno scopo e precisamente quello di cercare un posto conveniente al suo grado se possibile di vicegovernatore altrimenti di cancelliere in qualche ministero importante il maggiore Kovalev non era neppure alieno dall'ammogliarsi ma solamente nel caso che la sposa avesse almeno 200.000 rubli di dote adesso dunque il lettore può giudicare da sé quale fosse lo stato d'animo del nostro maggiore quando vide uno stupidissimo spazio piatto e liscio al posto di un degno e ben proporzionato naso come per distetta per la strada non si vedeva un solo vetturino ed egli dovette andare a piedi avvolgendosi nel suo mantello e nascondendo con un fazzoletto la faccia così da far credere che stava perdendo sangue dal naso ma forse è soltanto una mia impressione non può essere che il naso sia sparito così stupidamente pensò ed entrò in una pasticceria apposta per guardarsi in uno specchio per fortuna nella pasticceria non c'era nessuno dei garzoni scopavano le sale e sistemavano le sedie alcuni con gli occhi assonnati disponevano nei vassoi dei pasticcini caldi sui tavolini e sulle sedie c'erano ancora i giornali del giorno prima sporchi di caffè beh grazie a dio non c'è nessuno si disse Kovalev adesso posso darmi un'occhiata si avvicinò timidamente a uno specchio e guardò al diavolo che razza di porcheria esclamò e sputò in terra ci fosse almeno qualcosa al posto del naso ma che niente si morse le labbra con dispetto uscì dalla pasticceria e contrariamente alle sue abitudini decise di non guardare nessuno e di non sorridere a nessuno tutto a un tratto si fermò come inchiodato accanto al portone di una casa sotto i suoi occhi si verificava un fenomeno inspiegabile davanti all'ingresso si era fermata una carrozza gli sportelli si aprirono piegandosi ne balzò fuori un uomo in uniforme e corse su per la scala quale non furono lo spavento e nello stesso tempo lo stupore di Kovalev quando in lui riconobbe il proprio naso davanti a questo spettacolo insolito così almeno gli parve la sua vista si annebbiò sentiva che poteva appena reggersi in piedi ma decise di aspettare a qualunque costo il ritorno del naso nella carrozza sebbene tremasse tutto come in preda al delirio due minuti dopo effettivamente il naso uscì indossava un uniforme ricamata in oro con un grande colletto rigido aveva pantaloni scamosciati e la spada al fianco dal cappello con le piume si poteva dedurre che si considerava in possesso del grado di consigliere di stato guardò da entrambe le parti gridò al cocchiere andiamo salì in carrozza e partì e il povero Kovalev per poco non uscì di senno non sapeva nemmeno che cosa pensare di un fatto così strano come era possibile in realtà che il naso che sino al giorno prima era sulla sua faccia che non poteva né camminare né andare in carrozza adesso fosse persino in uniforme si mise a correre dietro alla carrozza che per fortuna non andò lontano e si fermò davanti alla cattedrale di Kazan egli si affrettò verso la soglia della cattedrale si fece strada in mezzo a una fila di vecchie mendicanti le cui facce bendate che lasciavano visibili soltanto le cavità degli occhi lo facevano solitamente ridere ed entrò in chiesa dentro la chiesa la gente in preghiera non era molta e quasi tutti stavano in piedi vicini all'ingresso Kovalev si sentiva in uno stato d'animo così sconvolto che non aveva assolutamente la forza di pregare e cercava con gli occhi quel signore in tutti gli angoli finalmente lo scorse che se ne stava in disparte il naso nascondeva completamente la propria faccia nel grande colletto rigido e pregava con un'espressione molto devota come posso avvicinarmi pensò Kovalev da tutto dall'uniforme dal cappello si vede che è un consigliere di stato lo sa il diavolo come posso fare cominciò a tossicchiare vicino a lui ma il naso non abbandonava nemmeno per un momento il suo atteggiamento devoto e aveva cominciato a fare profonde genuflessioni egregio signore disse Kovalev obbligandosi nel suo intimo a farsi coraggio egregio signore che cosa volete rispose il naso voltandosi mi sembra strano egregio signore ho l'impressione voi dovreste sapere qual è il vostro posto e tutto in tratto vi trovo e dove? in una chiesa convenite che scusatemi ma non riesco a capire di che cosa intendete parlare spiegatevi ma come posso spiegargli pensò Kovalev e fatto si animo incominciò certo io del resto sono maggiore andare in giro senza naso sarete d'accordo è cosa sconveniente una fruttivendola qualsiasi che vende aranze sbucciate sul ponte Fosteremsky può anche stare senza naso ma io avendo in vista di ottenere un posto di governatore essendo inoltre in molte case amico di signore come la ecce terevna consigliere di stato e altre giudicate voi stesso io non sono e grezzo signore nel dire questo Kovalev si strinse nelle spalle scusate se questo si considera secondo le regole del dovere e dell'onore voi stesso capirete non capisco proprio nulla rispose il naso spiegatevi in maniera più chiara e grezzo signore disse il maggiore Kovalev con tutto il sentimento della propria dignità non so come intendere le vostre parole qui tutta la faccenda a quel che sembra è perfettamente evidente oppure voi volete ma se voi siete il mio naso il naso guardò il maggiore e i suoi sopraccigli si agglottarono alquanto vi sbagliate grezzo signore io sono per mio conto inoltre fra noi non può esservi alcuna stretta relazione a giudicare dai bottoni della vostra uniforme voi dovete prestare servizio in un'altra amministrazione ciò detto il naso si voltò e continuò a pregare non sapendo che fare che altro pensare Kovalev si confuse del tutto in quel momento si udì il gradevole fruscio di un abito femminile si avvicinò una signora anziana tutta adorna di trine e con lei un'altra signora esile con un abito bianco trappeggiato molto graziosamente sulla sua vita snella e un cappellino di paglia leggero come un pasticcino dietro di lei si fermò e aprì la propria tabacchiera un alto aeduco con grandi basette e un'intera dozzina di collettoni Kovalev si avvicinò si accomodò il collo di batista della camicia aggiustò i suoi ciondoli appesi a una catenella d'oro e sorridendo di qua e di là rivolse l'attenzione alla signora esile che si piegava leggermente come un fiorellino di primavera che portava sulla fronte la sua bianca manina dalle diafane dita sulla faccia di Kovalev il sorriso si fece ancora più largo quando sotto il cappellino scorse il mento rotondetto di spiccato candore e una parte della gota soffusa della tinta della prima rosa primaverile ma tutta un tratto egli fece un salto indietro come se si fosse scottato si era ricordato che al posto del naso non aveva assolutamente nulla e gli occhi gli sinondarono di lacrime si voltò per dire seccamente al signore in uniforme che si spacciava per un consigliere di stato che era un imbroglione un mascalzone e nient'altro se non il suo naso ma il naso non c'era già più era riuscito a svignarsela ciò immerse Kovalev nella disperazione tornò indietro e si fermò per un istante sotto i portici guardando accuratamente da tutte le parti se gli riusciva di scorgere il naso ricordava molto bene che aveva il cappello con il piumaggio e l'uniforme con il ricamo d'oro ma il cappotto non l'aveva osservato nel colore della sua carrozza nei cavalli e nemmeno se avesse dietro qualche servitore e con quale livrea di carrozze poi ne passavano avanti e indietro una tale quantità e a tale velocità che era difficile distinguerle inoltre anche se l'avesse riconosciuta non avrebbe avuto alcun mezzo per fermarla la giornata era splendida e assolata sulla prospettiva Nevsky c'era un'infinità di gente una vera cascata floreale di signore che si sparpagliavano su tutto il marciapiede dal ponte della polizia alla Niekin ecco là un consigliere di corte di sua conoscenza che lui chiamava colonnello specialmente se ciò accadeva davanti a destranei ecco anche Jaritzkin capufficio al senato grande amico che a Boston eternamente perdeva quando giocava lotto ecco un altro maggiore che aveva avuto un assessorato del caucaso gli faceva cenno con la mano di andare da lui che il diavolo se lo prenda disse Kovalev ehi vetturino portami di filato dal capo della polizia salì in vettura e non fece altro che gridare al vetturino forza forza è in casa il capo della polizia gridò entrando nel vestibolo no signore rispose il portiere è uscito proprio adesso si mancava anche questa si aggiunse il portiere non è molto ma è uscito se foste arrivato un istante prima forse l'avreste trovato in casa senza mai togliersi il fazzoletto dalla faccia Kovalev salì in vettura e si mise a gridare con voce disperata vai dove? domandò il vetturino va dritto come dritto? qui c'è una svolta a destra o a sinistra? ehi vetturino salì sulla vettura e non fece altro che gridare al vetturino forza forza è in casa il capo della polizia gridò entrando nel vestibolo no signore rispose il portiere è uscito proprio adesso ci mancava anche questa si aggiunse il portiere non è molto ma è uscito se foste arrivato un istante prima forse l'avreste trovato in casa senza mai togliersi il fazzoletto dalla faccia Kovalev salì in vettura e si mise a gridare con voce disperata vai dove? domandò il vetturino va dritto come dritto? qui c'è una svolta a destra o a sinistra? questa domanda fermò Kovalev e lo costrinse nuovamente a pensare nella sua situazione occorreva rivolgersi innanzitutto all'ufficio del buon costume non perché esso avesse diretta relazione con la polizia ma perché le sue disposizioni potevano essere notevolmente più rapide che non quelle di altri uffici cercare infatti soddisfazione dai capi dell'amministrazione presso cui il suo naso si era dichiarato impiegato sarebbe stato irragionevole giacché dalle stesse risposte del naso sarà già potuto vedere che per lui non c'era nulla di sacro ed era probabile che avrebbe mentito anche in questo caso così come aveva mentito assicurando di non essersi mai incontrato con lui sicché Kovalev stava già per ordinare di recarsi all'ufficio del buon costume quando gli venne da capo il pensiero che quell'imbroglione mascalzone che fin dal primo incontro aveva agito in maniera così svergognata poteva adesso comodamente svignarsela dalla città approfittando del tempo guadagnato e allora tutte le ricerche sarebbero state vane o avrebbero potuto protrarsi di onescampi anche un mese intero finalmente parve che il cielo stesso lo illuminasse e decise di rivolgersi direttamente alla redazione di un giornale di pubblicare tempestivamente un annuncio con una circostanziata descrizione di tutte le caratteristiche in modo che chiunque l'avesse incontrato potesse nello stesso istante presentarglielo o almeno fargli sapere dove si trovava egli dunque deciso questo ordinò al vetturino di andare alla redazione di un giornale e durante tutta la strada non smise di tempestarlo con il pugno sulla schiena ripetendo più presto farabutto più presto ma scalzone eh signore diceva il vetturino scuotendo la testa e frustando con la briglia il suo cavallo che aveva il pelo lungo come un cane spagnuolo finalmente la vettura si fermò e Kovalev ansante entrò di corsa in una piccola anticamera dove un impiegato canuto con un vecchio frac e gli occhiali era seduto davanti a una scrivania e tenendo la penna fra i denti contava le monete di rame che gli avevano dato chi riceve qui gli annunci si mise a gridare Kovalev ah buongiorno i miei rispetti disse l'impiegato canuto sollevando per un momento gli occhi e abbassandoli di nuovo sulle pile di monete che aveva dinnanzi vorrei pubblicare permettete vi prego di aspettare un momento disse l'impiegato mettendo con la destra una cifra sulla carta e con due dita della sinistra spostando due palline del pallottoliere in piedi accanto alla scrivania con un biglietto in mano si era un servitore con i galloni e un aspetto che rivelava la sua appartenenza a una casa aristocratica costui voleva evidentemente mostrarsi socievole credete signore il cagnolino non vale otto grivni ossia io non darei per lui nemmeno otto grogi ma la contessa gli vuol bene per Dio gli vuol bene ed ecco darà chi lo trova cento rubli a dirla giusta così come adesso noi due siamo qui i gusti delle persone non sono affatto gli stessi se uno è cacciatore si tiene un bracco un barbone non lesina cinquecento rubli ne dà pure mille purché il cane sia buono il rispettabile impiegato ascoltava con viso compreso e nello stesso tempo andava conteggiando il numero delle parole del biglietto che gli era stato dato ai due lati c'era una gran quantità di vecchie di commesse di mercanti e di portieri con dei biglietti in uno si diceva che si offriva in servizio un cocchiere di sobria condotta in un altro che era in vendita un calesse poco usato importato nel 1814 da Parigi qua si cedeva in servizio una ragazza di fatica di 19 anni addestrata a fare il bucato e buona anche per altri lavori si offriva un robusto calesse privo di una molla un giovane cavallo ardente grigio pommellato di 17 anni di età nuove sementi di rape e di ravanelli ricevute da Londra una daea con tutte le comodità due stalli per i cavalli e un terreno dove ci poteva piantare un bellissimo parco di betulle o di abeti sarà anche un invito a chi desiderasse comprare suole vecchie con l'indicazione di presentarsi al rivenditore ogni giorno dalle 8 alle 3 la stanza in cui si trovava tutta questa gente era piccola e vera un'aria straordinariamente pesante ma l'assessore di collegio Kovalev non poteva sentire l'odore perché sarà nascosto nel fazzoletto e perché il suo naso si trovava dio sa dove e grazie signore permettete che vi chieda io ho un bisogno estremo disse egli infine con impazienza subito subito due rubli e 40 copeche all'istante un rublo e 60 copeche diceva il signore canuto buttando i biglietti in faccia alle vecchie e ai portieri voi che cosa desiderate disse rivolgendosi finalmente a Kovalev io prego disse Kovalev è successa una briconata o un imbroglio ancora adesso non riesco a saperlo io prego solamente di pubblicare che chi mi presenterà quel farabutto riceverà un adeguato compenso permettete di chiedervi come vi chiamate no perché come mi chiamo io non posso dirlo ho molti conoscenti io la ecstareva consiglieressa di stato e la giaia grigolevona podtoeina ufficiale di stato maggiore se per caso venissero a saperlo dio mi scampi potete semplicemente scrivere l'assessore di collegio o ancora meglio un individuo che ha il grado di maggiore e quello che è scappato era un vostro servitore come servitore questa poi non sarebbe neanche una briconata così grande a me è scappato il naso che strano cognome e questo signor nasov vi ha derubato di una somma ingente naso cioè no non l'avete capito il naso il mio naso è sparito chissà dove il diavolo si è beffato di me ma in che modo è sparito c'è qualcosa che non riesco a capire qui e io non posso dirvelo in che modo ma l'essenziale è che adesso lui va in giro per la città e si dice consigliere di stato e perciò io vi prego di pubblicare che chi lo cattura me lo riporti immediatamente nel più breve tempo possibile giudicate voi stesso come posso stare senza una parte così visibile del corpo non è certo lo stesso ad un qualsiasi mignolo del piede che nella scarpa nessuno vedrebbe se c'è o non c'è oggi giovedì io vado dalla consiglieressa di stato e cittarva la podteina Belaseia Grigorevna ufficialessa dello stato maggiore che ha una figlia molto graziosa pure lei è un'ottima conoscente e voi stesso potete giudicare in che stato dunque mi trovi adesso non posso più presentarmi da loro l'impiegato rifletteva come mostravano le sue labbra fortemente serrate no io non posso pubblicare un annuncio simile sul giornale disse finalmente dopo un lungo silenzio come perché mai così il giornale può perdere la reputazione se chiunque si mettesse a scrivere che gli è scappato il naso già dicono che si stampano molte assurdità e voci false ma in che cosa sarebbe un'assurdità questo fatto mi sembra che qui non ci sia niente di simile sembra a voi che non ci sia ma la scorsa settimana per esempio c'è già stato un caso del genere è venuto un impiegato come adesso siete venuto voi ha portato un biglietto il conto montava rubli 2,73 e tutto l'annuncio consisteva nel fatto che era scappato un barboncino nero che cosa c'era di strano vi domanderete no e invece è venuto fuori che era una burla il barboncino era un cassiere non ricordo di quale istituto ma io non vi faccio un annuncio su un barboncino bensì sul mio proprio naso dunque quasi come se lo facessi su me stesso no un annuncio simile non posso pubblicarlo ma il naso mi è sparito davvero se è sparito è un fatto che riguarda il medico dicono che ci sia della gente che sa attaccare qualsiasi naso noto comunque che siete una persona di carattere allegro e che vi piace scherzare in società vi giuro quanto è vero il dio del resto già che siamo arrivati a questo punto vi mostrerò perché incomodarvi continuò l'impiegato annusando del tabacco però se non vi incomoda soggiunse con un moto di curiosità mi piacerebbe darci un'occhiata l'assessore di collegio si tolse il fazzoletto dalla faccia realmente è molto strano disse l'impiegato il posto è perfettamente liscio come una frittella appena sfornata sì tanto liscio che non sembra vero beh adesso volete ancora discutere vedete anche voi che non si può fare a meno di pubblicare l'annuncio e io vi sarò particolarmente grato e sono molto contento che questo caso mi abbia procurato il piacere di fare la vostra conoscenza il maggiore come si vede aveva deciso per questa volta di abbassarsi un poco pubblicarlo non è difficile disse l'impiegato solo che non prevedo che ve ne deriverà alcun vantaggio solo se volete passate la cosa a qualcuno che abbia una penna abile in modo che ne parli come di un raro fenomeno della natura e stampi l'articoletto sull'ape del nord a questo punto annusò nuovamente del tabacco per l'istruzione della gioventù a questo punto si soffiò il naso o solo così per la curiosità di tutti l'assessore di collegio era completamente scoraggiato abbassò gli occhi sulla parte inferiore di un giornale dove c'era il programma degli spettacoli e già la sua faccia era atteggiata al sorriso avendogli scorto il nome di una certa attrice piuttosto piacente e la mano gli era corsa alla tasca per vedere se avesse una banconota azzurra perché gli ufficiali superiori secondo l'opinione di Kovalev non potevano andare altro che in poltrone quando il pensiero del naso rovinò tutto perfino l'impiegato sembrava commosso dalla difficile situazione di Kovalev desiderando consolarlo in qualche modo egli pensò che fosse gentile dire qualcosa per esprimere la propria partecipazione davvero mi spiace molto che vi sia successa una storia simile non gradireste fiutare una presa di tabacco elimina il mal di capo e umori cattivi fa bene anche alle emorroidi così dicendo l'impiegato porse la tabacchiera a Kovalev dopo averne sollevato con destrezza il coperchio con il ritratto ad una signora in cappellino questo gesto impulsivo fece uscire dai gangheri Kovalev non capisco come possiate scherzare disse con rabbia non vedete forse che mi manca proprio ciò che serve a fiutare che il diavolo si porti il vostro tabacco adesso non posso più neanche vederlo e non solamente il vostro schifoso tabacco di betulla ma perfino se mi aveste offerto del vero rapè detto questo uscì profondamente seccato dalla redazione del giornale e si diresse dal commissario del quartiere che era ghiottissimo di zucchero in casa sua tutta l'anticamera e così pure la sala da pranzo erano piene di pan di zucchero che i mercanti gli portavano in segno d'amicizia in quel momento la cuoca stava togliendo al commissario gli stivaloni di servizio la spada e tutti gli arnesi militari erano già pacificamente appesi agli angoli e il suo bimbo di tre anni giocherillava col minaccioso tricorno mentre lui dopo una giornata di insolenza e di battaglie si preparava ad assaporare i piaceri della pace domestica Kovalev entrò da lui nel momento in cui egli si stirava grugneva e diceva me la dormirò beatamente un paio di orette perciò si può prevedere come l'arrivo dell'assessore di collegio giungesse del tutto a sproposito non so ma anche se in quel momento egli avesse portato diverse libre di tè o del panno ugualmente l'accoglienza non sarebbe stata troppo cordiale il commissario era un grande protettore delle arti e delle industrie ma tutto preferiva una banconota di stato è una così affermava di solito che davvero non ce n'è una migliore da mangiare non ne chiede di posto non ne occupa in una tasca ci sta sempre se la lasci cadere non si rompe il commissario accolse Kovalev freddamente e disse che dopo il pranzo non è il momento per aprire un'indagine che la natura stessa ha stabilito che dopo essersi saziati si si riposi un pochetto dal che l'assessore di collegio poteva vedere che al commissario non erano ignote le sentenze degli antichi saggi che a un uomo per bene non cade il naso e che al mondo c'era un sacco di maggiori di ogni genere che non avevano neppure la biancheria in ordine e andavano in giro per ogni sorta di luoghi indegni ossia non per mandato a dire ma proprio in faccia va notato che Kovalev era un uomo permalosissimo non soltanto egli non poteva perdonare quel che si diceva di lui come uomo ma non ammetteva in alcun modo che qualcuno si riferisse al titolo o al grado riteneva addirittura che nelle rappresentazioni teatrali si potesse lasciar passare tutto ciò che si riferiva ai sotto ufficiali ma non si dovessero assolutamente attaccare gli ufficiali l'accoglienza del commissario lo confuse a tal punto che si mise a scuotere la testa e a dire con un forte senso della propria dignità allargando le braccia confesso che dopo simili offensivi rilievi da parte vostra non posso aggiungere nulla e se ne andò arrivò a casa che sentiva appena le gambe sotto di sé era già al tramonto dopo tutte quelle ricerche infruttuose il suo alloggio gli parve triste e squallido entrato in camera vide sul sudice divano di cuoio il suo servitore Ivan che se ne stava straiato a supino sputava contro il soffitto e con una certa abilità colpiva sempre lo stesso punto una simile indifferenza da parte del servitore lo mandò su tutte le furie lo colpì sulla fronte con il cappello dicendo porco che non sei altro ti occupi sempre di stupidaggini Ivan saltò su di colpo dal suo posto e si precipitò a togliergli il mantello entrato nella sua camera il maggiore stanco e triste si abbandonò in una poltrona e finalmente dopo alcuni sospiri si disse dio mio dio mio perché mai una simile disgrazia fossi senza un braccio senza una gamba sarebbe meglio fossi senza orecchie sarebbe brutto e tuttavia sempre più sopportabile ma senza naso lo sa il diavolo che cos'è un uomo uccello non è cittadino nemmeno è solo qualcosa da prendere e buttare fuori dalla finestra e magari me l'avessero mozzato in guerra o in un duello o fossi stato io stesso la causa di ciò ma è sparito senza un motivo è sparito senza un perché così ma no non può essere aggiunse dopo aver riflettuto un po' è inverosimile che un naso sparisca è inverosimile sotto tutti i punti di vista di sicuro sto sognando oppure ho un'allucinazione forse per chissà quale sbaglio invece di acqua ho bevuto la vodka con cui mi massaggio il mento dopo essermi fatto la barba quello stupido di Ivan non l'ha messa via e io probabilmente me la sono bevuta per accertarsi che non era ubriaco e Maggiore si diede un pizzicotto così doloroso che lanciò un grido il dolore lo persuase definitivamente che agiva e viveva in piena lucidità si avvicinò alla chitichella allo specchio e dapprima serrò stretti gli occhi con l'idea che magari il naso si sarebbe mostrato al proprio posto ma subito dopo fece un salto indietro esclamando che aspetto da buffone e davvero era incomprensibile se fosse sparito un bottone un cucchiaino d'argento o qualcosa del genere ma sparire un naso e inoltre a chi sparire è per giunta nel suo stesso alloggio il Maggiore Kovalev considerando tutte le circostanze concluse che con ogni probabilità la colpa di tutto era dell'ufficialessa superiore pottoena la quale desiderava che lui sposasse sua figlia anche a lui piaceva stare un po' dietro alla ragazza ma evitava un impegno definitivo quando infatti l'ufficialessa gli aveva dichiarato apertamente che intendeva dargliela in moglie lui pian piano aveva fatto marcia indietro con i suoi complimenti dicendo che era ancora giovane che doveva prestare servizio per almeno cinque anni per arrivare giusto a 42 perciò l'ufficialessa probabilmente per vendetta si era decisa a rovinarlo e per far questo aveva assoldato qualche fattucchiera da che non si poteva in alcun modo supporre che il naso fosse stato tagliato nessuno infatti era entrato nella sua stanza quanto al barbiere Ivan Jakovlevie gli aveva fatto la barba mercoledì e durante l'intero mercoledì e anche durante tutto il giovedì il suo naso era intatto questo se lo ricordava bene inoltre avrebbe sentito del dolore e di certo la ferita non avrebbe potuto cicatrizzarsi così presto ed essere liscia come una frittella faceva dei piani nella sua testa citare formalmente l'ufficialessa in giudizio o presentarsi a lei di persona e smascherarla le sue riflessioni furono interrotte da una luce che brillava attraverso tutte le fessure della porta e mostrava che Ivan aveva già acceso la candela in anticamera ben presto comparve anche Ivan che recava la candela davanti a sé illuminando tutta la camera il primo gesto di Kovalev fu quello di afferrare il fazzoletto e di coprire il posto dove il giorno prima c'era ancora il naso in modo che quello stupido non rimanesse a bocca aperta vedendo che il suo padrone aveva quella stranezza Ivan non aveva fatto in tempo ad andarsene nella sua tana che in anticamera si udì una voce sconosciuta abita qui l'assessore di collegio Kovalev entrate il maggiore Kovalev è qui disse Kovalev saltando frettolosamente in piedi aprendo la porta entrò un funzionario di pulizia di bello aspetto con basettoni non troppo chiari e non troppo scuri con guancia abbastanza piene quello stesso che al principio del racconto si trovava all'estremità del ponte Isakievski scusate forse avete perso un naso proprio così è stato trovato che cosa dite gridò il maggiore Kovalev la gioia gli tolse la favella guardava fisso nei due occhi la guarda di quartiere che stava davanti a lui e sulle cui labbra le guance pienotte la tremolante luce della candela mandava vivi bagliori in che modo in uno strano modo l'hanno fermato che era già quasi in viaggio era salito su una dirigenza e voleva partire per riga già da tempo aveva un passaporto col nome di un impiegato e lo strano è che anch'io in principio l'avevo preso per un signore ma per fortuna avevo con me gli occhiali e ho visto subito che si trattava di un naso perché io sono miope e se vi mettete davanti a me vedo solamente che avete una faccia ma non vedo né il naso né la barba non noto nulla anche mia suocera ossia la madre di mia moglie non ci vede affatto Kovalev era fuori di sé dov'è dov'è corro subito non preoccupatevi sapendo che vi era necessario l'ho portato con me lo strano è che il principale responsabile di tutta questa faccenda è un mascalzone di barbiere della prospettiva Vosnezzynski che adesso si trova in una camera di sicurezza da tempo lo sospettavo d'ubriachezza e di furto e anche l'altro ieri in una bottega ha rubato una fila di bottoni il vostro naso è precisamente così com'era e per questo la guardia si frugò in una tasca e ne trasse il naso avvolto in un pezzo di carta è lui gridò Kovalev è proprio lui oggi prenderete con me una tazza di tè per me sarebbe un grande piacere ma non posso proprio di qua devo andare alla casa di correzione c'è un enorme rincaro di tutti i generi alimentari a casa mia vive anche mia suocera ossia la madre di mia moglie e ci sono i bambini specialmente il maggiore da grandi speranze è un ragazzino molto intelligente ma non ci sono i mezzi per educarlo Kovalev mangiò la foglia e afferrata sul tavolo una banconota rossa la ficò in mano alla guardia che strisciato un inchino uscì dalla porta subito dopo Kovalev udì la sua voce in strada dove la guardia faceva una ramanzina a uno stupido zotico che con il suo carro percorreva proprio il boulevard quando la guardia se ne fu andata l'assessore di collegio rimase per qualche minuto in uno stato d'animo piuttosto indefinito e solo dopo alcuni minuti riacquistò la facoltà di vedere e di sentire in tale smarrimento le aveva citato l'improvvisa gioia prese con gran cautela il naso con entrambe le mani e lo guardò ancora una volta con attenzione è lui è proprio lui mormorò il maggiore Kovalev ecco anche il foruncolo che era spuntato ieri sulla parte sinistra per poco il maggiore non scoppiò a ridere dalla gioia ma al mondo non c'è nulla di duraturo e perciò anche la gioia nell'attimo che segue non è già più così viva poi essa diventa ancora più debole e infine inavvertitamente si confonde con lo stato d'animo abituale come nell'acqua un cerchio prodotto dalla caduta ad un sassolino finisce per confondersi con la superficie liscia Kovalev cominciò a riflettere e capì che la faccenda non era ancora finita il naso era stato trovato ma adesso occorreva attaccarlo rimetterlo al suo posto e se non si attaccasse di fronte a questa domanda che aveva rivolto a se stesso il maggiore impallidì con un sentimento di indescrivibile terrore si precipitò il tavolo mise vicino a sé lo specchio per non rischiare di attaccarsi il naso storto le mani gli tremavano con cautela e circospezione posò il naso al suo giusto posto oh orrore il naso non si attaccava allora lo avvicinò alla bocca lo riscaldò leggermente con il fiato e lo collocò di nuovo sullo spazio liscio che si trovava fra le due guance ma il naso proprio non si reggeva su insomma su mettiti a posto scemo disse ma il naso era come di legno e cascava sul tavolo con un rumore strano come se fosse stato un tappo la faccia del maggiore si contraeva in una smorfia convulsa possibile che non faccia più presa si disse in preda allo spavento ma per quante volte lo appoggiasse al suo posto gli sforzi continuavano a restare vani allora chiamò Ivan e lo mandò da un dottore che occupava in quella stessa casa l'appartamento migliore al piano nobile questo dottore era un uomo di bell'aspetto aveva degli stupendi basettoni color pece e una moglie fresca e sana che ogni mattina mangiava delle mele e si teneva la bocca sempre pulita risciacquandola tutti i giorni quasi per tre quarti d'ora spazzolando i denti con cinque spazzolini di diverso tipo e il dottore comparve sull'istante dopo aver domandato da quanto tempo fosse successo il guaio afferrò il maggiore per il mento con il pollice gli diede un buffetto proprio nel posto dove c'era prima il naso in modo tale che il maggiore dovette buttare la testa indietro con tanta violenza che sbatté forte la nuca contro il muro il medico disse che non era nulla e dopo avergli detto di staccarsi un poco dal muro gli ordinò di piegare la testa verso destra e tastato il posto dove c'era prima il naso disse mmm poi ordinò di piegare la testa verso sinistra e disse mmm e a conclusione gli diede di nuovo un buffetto col pollice in modo che il maggiore impennò la testa come un cavallo a cui si esaminano i denti fatta questa prova il medico scosse il capo e disse non si può è meglio che restiate così perché si potrebbe far di peggio attaccarlo si può si capisce ve lo attaccherei anche subito ma vi assicuro che per voi sarebbe peggio bella questa e come faccio a restare senza naso disse Kovalev peggio di adesso non potrà mai essere lo sa soltanto il diavolo come mi trovo dove mi posso presentare con uno scherzo simile io ho buone conoscenze ecco anche oggi devo andare in visita a due case conosco molta gente la consiglieressa di stato eccetera l'ufficialessa superiore potuto eina benché dopo quello che mi ha fatto non vorrò avere più niente a che fare con lei se non attraverso la polizia fatemi il piacere aggiunge Kovalev con voce supplichevole non c'è un sistema attaccatelo in qualche modo magari non bene purché si regga potrei persino sostenerlo io un poco con la mano nei momenti pericolosi del resto io non ballo cosa che potrebbe essere assai dannosa per via di qualche movimento troppo brusco per tutto quanto si riferisce alla ricompensa per il disturbo siate pur certo che nella misura in cui lo consentono i miei mezzi credete disse il dottore con voce forte ma neppure sommessa e tuttavia molto esortativa e magnetica io non curo mai per interesse questo è contrario alle mie regole e alla mia arte è vero mi faccio pagare per le visite ma unicamente per non offendere con un rifiuto certo vi attaccherai il naso ma vi assicuro sul mio onore se proprio non volete credere alla mia parola che sarebbe molto peggio lasciate piuttosto che la natura agisca da sé lavatevi più spesso con l'acqua fredda e vi garantisco che pur non avendo il naso vi verete sano come se l'aveste quanto al vostro naso vi consiglio di metterlo in un barattolo sotto spirito e ancora meglio di versarvi due cucchiai da tavola di vodka forte e di aceto riscaldato e allora potrete ricavarne dei bei soldi lo comprerò io stesso se non chiederete troppo no no io non lo vendo a nessun prezzo si mise a gridare il maggiore Kovalev disperato che vada perduto piuttosto scusate disse il dottore salutandolo io volevo esservi utile che farci almeno avrete visto che mi sono preoccupato detto questo il dottore uscì austeramente dalla stanza Kovalev non ne notò neppure il viso e nel suo profondo sbarrimento vide solamente i polsini della sua camicia bianca come la neve che sporgevano dalle maniche del frac nero nel domani stesso prima di presentare querela si decise a scrivere all'ufficialessa superiore per sapere se non la consentisse a restituirli senza discussione ciò che gli apparteneva la lettera era del seguente tenore egresa signora alexandra grigorievna non riesco a comprendere il vostro strano modo d'agire siate pur certa che comportandovi così voi non ci guadagnerete nulla e non mi costringerete affatto a sposare vostra figlia credete pure che la faccenda del mio naso mi è perfettamente nota così come il fatto che voi ne siete la principale responsabile e non già qualcun altro il suo improvviso distacco dal proprio posto la fuga e il mascheramento ora sotto le spoglie di un funzionario ora infine con le sue vere sembianze altro non sono che la conseguenza delle magie ordite da voi o da coloro che si esercitano in simili nobili occupazioni da parte mia ritengo doveroso avvertirvi che se il naso da me menzionato non tornerà oggi stesso al suo posto sarò costretto a ricorrere alla difesa e alla protezione delle leggi del resto con assoluta stima verso di voi ho l'onore di essere il vostro docile servo Platon Kovalev Platon Kovalev e grezzo signore Platon Kuzmiè la vostra lettera mi è straordinariamente stupita vi confesso sinceramente che non me la sarei mai aspettata tanto più in rapporto ai vostri ingiusti rimproveri vi faccio osservare che io non ho mai ricevuto in casa mia il funzionario che voi menzionate né mascherato né con il suo vero aspetto è venuto da me Filip Ivanovye Potaneikov questo è vero e benché effettivamente lui aspirasse alla mano di mia figlia e fosse pure di buona e sobria condotta e molto istruito io tuttavia non gli ho mai dato alcuna speranza voi menzionate anche un naso se con questo intendete dire che io avrei inteso lasciarvi con un palmo di naso ossia opporvi un formale rifiuto mi stupisce il fatto che voi stesso parliate di questo in quanto io come vi è noto ero assolutamente d'avviso contrario e se adesso voi voleste legittimamente fidanzarvi con mia figlia sarei pronta immediatamente a soddisfarvi già che questo ha sempre costituito l'oggetto del mio più vivo desiderio e la speranza della qualcosa restò sempre pronta ai vostri servigi alexandra o dottor Eina no disse Kovalev dopo aver letto la lettera sembra che lei non ne abbia nessuna colpa non può essere la lettera non è scritta come la potrebbe scrivere una persona colpevole di un delitto l'assessore di collegio se ne intendeva perché varie volte era stato invitato a svolgere inchieste quando ancora si trovava nella regione del caucaso in che modo per quali circostanze è dunque successo soltanto il diavolo può vederci chiaro disse infine lasciando cadere le braccia nel frattempo le voci di quell'avvenimento insolito si erano diffuse in tutta la capitale e come sempre succede non senza frange proprio in quel periodo l'attenzione della gente tendeva alle cose straordinarie poco tempo prima tutta la città si era appassionata a certi esperimenti sugli effetti del magnetismo inoltre la storia delle seggiole che ballavano in via con Yusennaia era ancora fresca e non c'è quindi affatto da stupirsi che presto ci si mettesse a dire che il naso dell'assessore di collegio Kovalev andava a passeggio alle tre in punto sulla prospettiva Nevsky ogni giorno una gran quantità di curiosi affluiva sul posto se qualcuno diceva che il naso si trovava nel negozio di Juncker subito la folla faceva l'essa in modo che doveva intervenire persino la polizia uno speculatore d'aspetto distinto con basettoni che vendeva all'ingresso del teatro pasticcini raffermi di vario genere fabbricò apposta dei solidi sgabelli di legno sui quali invitava a sedersi i curiosi per 80 copecchi un colonnello a riposo uscì apposta per questo prima del solito da casa e si fece largo tra la folla a fatica ma con sua grande indignazione invece del naso nella vetrina del negozio scorse una normale maglia di lana e una litografia che rappresentava una ragazza nell'atto di tirarsi su una calza insieme a un bell'imbusto con un panciotto a risvolti e la barbetta che la guardava da dietro un albero quadretto che già da più di dieci anni stava in quel posto e ne andò indispettito dicendo com'è possibile turbare il popolo con voci così stupide e inverosimili poi si sparse la voce che il naso del maggiore Kovalev non andava a passeggio sulla prospettiva Nevsky ma nel giardino di Tauride che anzi vi si trovava da un pezzo che quando vi abitava Kozrev Mirza era assai stupito di questo strano scherzo della natura alcuni studenti dell'accademia chirurgica si diressero a quella volta un'illustre e stimata signora chiese con una lettera al custode del giardino di mostrare ai bambini questo raro fenomeno e se possibile anche una spiegazione istruttiva ed edificante per la gioventù di tutta la faccenda furono molto contenti i mondani e inevitabili frequentatori dei salotti ai quali piace far ridere le signore e la cui provvista di bon mot era in quel periodo esaurita una piccola parte di persone rispettabili e ben intenzionate invece era scontenta un signore diceva con sdegno di non capire come nel corrente illuminato secolo potessero diffondersi simili assurde invenzioni e si stupiva come mai il governo non si occupasse della cosa come si vede questo signore apparteneva alla categoria di quelle persone che vorrebbero immischiare il governo in tutto persino nelle loro liti quotidiane con la moglie dopo ma a questo punto di nuovo tutta la storia viene nascosta da una nebbia e che cosa si è successo in seguito è assolutamente ignoto al mondo succedono le cose più inverosimili talvolta manca persino la minima ombra di vero simiglianza improvvisamente quello stesso naso che era andato in giro con il grado di consigliere di stato e aveva provocato tanto rumore in città come se niente fosse si trovò di nuovo al suo posto ossia precisamente fra le due guance del maggiore Kovalev questo accadde il 7 di aprile svegliato si è rivolta senza pensarci un'occhiata allo specchio che cosa vide il naso la ferrò con una mano era proprio il naso disse Kovalev e dalla gioia per poco non si mise a ballare scalza il trepac nella stanza ma glielo impedì la presenza di Ivan entrato in quel momento allora diede ordine di portargli immediatamente il necessario per lavarsi e mentre si lavava diede un'altra occhiata allo specchio il naso strofinandosi con l'asciugamano diede ancora un'altra volta un'occhiata allo specchio il naso guarda un po' Ivan mi pare d'avere sul naso un foruncoletto disse e intanto pensava bel guaio se Ivan dicesse ma no signore non solo non c'è nessun foruncoletto ma non c'è nemmeno il naso ma Ivan disse non c'è niente nessun foruncoletto il naso è pulito bene il diavolo se lo porti si disse il maggiore e fece schioccare le dita in quell'istante si affacciò sulla porta il barbiere Ivan Jakovlievie ma in un certo modo timoroso come un gatto che sia stato appena frustato ed abbia rubato dello strutto prima dimmi hai le mani pulite gli gridò da lontano Kovalev pulite bugiardo per dio pulite signore beh sta attento Kovalev si sedette Ivan Jakovlievie l'avvolse nell'asciugamano e in un istante con l'aiuto del pennello gli trasformò la barba e le guance in una crema simile a quella che si serve in casa dei mercanti nel loro giorno nomastico vedi un po' disse fra sé Ivan Jakovlievie gettando un'occhiata al naso e poi piegò la testa dall'altra parte e lo guardò di traverso ma guarda sembra proprio il suo continuò e contemplò a lungo il naso finalmente con la massima delicatezza e leggerezza sollevò due dita con l'intenzione di afferrare il naso per la punta perché tale era il sistema di Ivan Jakovlievie ehi ehi stai attento si mise a gridare Kovalev Ivan Jakovlievie lasciò cadere le braccia allibì e si confuse come mai si era confuso infine si mise a raschiare delicatamente con il rasoio sotto il mento e benché gli riuscisse molto scomodo e difficile radere senza avere un sostegno nella parte olfattiva del corpo tuttavia appoggiandosi in qualche modo con il suo ruvido pollice alla guancia e alla macella inferiore superò alla fine tutti gli ostacoli e fece la barba quando fu tutto pronto Kovalev si affrettò a vestirsi prese una vettura e andò dritto difilato in una pasticceria entrando ancora lontano dal banco si mise a gridare ehi ragazzo una tazza di cioccolato e nello stesso momento si guardò allo specchio il naso c'era allora si voltò allegramente indietro e con aria ironica strizzando un po' con gli occhi guardò due militari uno dei quali aveva un naso che non era di certo più grande del bottone di un gilè dopodiché si recò dalla segretaria del ministero dove aveva sollecitato un posto di vicegovernatore o in caso di insuccesso di esecutore attraversando l'anticamera diede un'occhiata allo specchio il naso c'era poi andò da un altro assessore di collegio maggiore grande mattacchione al quale gli spesso diceva rispondendo alle sue pungenti osservazioni eh io ti conosco ma la lingua per strada pensava se neanche il maggiore mi ride in faccia nel vedermi è un segno sicuro che ho tutto davvero a posto ma l'assessore di collegio non disse nulla bene bene lo sa il diavolo pensò Frosi Kovalev lungo la strada incontrò l'ufficialessa superiore podotò Eina insieme con la figlia le salutò e fu accolto da esclamazioni di gioia dunque niente in lui non c'era proprio nessun difetto chiacchierò con loro a lungo e tirata fuori la tabacchiera si riempì entrambe le narici davanti a loro mentre Frosi andava dicendo ecco qua donne razza di galline con la figlia comunque non mi sposo se fosse semplicemente così per amor allora sì con piacere e il maggiore Kovalev da quel giorno andò in giro come se niente fosse sulla prospettiva Nevsky per i teatri e dappertutto e anche il naso come se niente fosse se ne stava sulla sua faccia non dando minimamente l'impressione di essersi mai allontanato dopo di allora il maggiore Kovalev fu visto eternamente di buon umore sorridente che inseguiva tutte le belle signore senza eccezione una volta perfino fermo davanti a una bottega di Gostini Tvor nell'atto di acquistare il nastro di una certa decorazione per quali motivi si ignora che non era cavaliere da alcun ordine ecco dunque quale storia accadde alla nordica capitale del nostro vasto stato ora soltanto considerando tutto vediamo che in essa c'è molto di inverosimile per non dire del fatto che il distacco soprannaturale del naso e la sua comparsa in vari luoghi sotto le spoglie ed un consigliere di stato è una cosa troppo strana come aveva potuto Kovalev non capire che non si può mettere un avviso su un giornale a proposito di un naso non lo dico qui nel senso che il prezzo per l'annuncio sarebbe stato troppo caro questa è una sciocchezza io non appartengo affatto al novero delle persone attaccate al denaro ma è sconveniente imbarazzante non sta bene e poi ancora come fece il naso a trovarsi nel pane appena sfornato e come lo stesso Ivan Iacoflevie ma la cosa più strana più incomprensibile di tutte è che gli scrittori possano dedicarsi a simili argomenti lo riconosco questo è davvero inconcepibile è davvero no no non posso proprio capire in primo luogo non ne avviene decisamente alcun vantaggio per la patria in secondo luogo ma anche in secondo luogo non ne viene alcun vantaggio semplicemente non so che mai significhi tutto questo e tuttavia malgrado ciò si può anche ammettere e l'una e l'altra cosa e anche la terza già perché dov'è che non si verificano delle cose inverosimili e a rifletterci bene in tutto questo davvero qualcosa c'è si può dire quel che si vuole ma simili avvenimenti al mondo accadono di rado ma accadono che c'è Grazie a tutti